I televisori Panasonic della serie AS800 sono Smart TV dotati di pannello LED Full HD e tecnologia 3D. Il design è elegantissimo e finemente progettato. Lo chassis è impreziosito da un piedistallo dalle forme minimal che donerà un tocco di raffinatezza al vostro soggiorno. Il retro del TV è come al solito dedicato alle porte di comunicazione. Ingressi ed uscite sono numerosi e consentono di interfacciare facilmente ed in modo intuitivo il dispositivo con apparati esterni. Panasonic AS800 è dotato di un pannello LED IPS Full HD, capace di regalarvi una qualità dei colori senza precedenti. Stiamo parlando di un TV a cui è stato riconosciuto l'ambito certificato THX Display per la sua eccellente qualità di immagine. La ricchezza dei dettagli è esaltata dalle tecnologie implementate. Il dispositivo infatti integra un potente processore EXA Processing Engine che permette di ottenere massima qualità di immagine. A tutto questo si aggiungono la retroilluminazione Black Light Scanning a 1800 Hz, il local diming e la tecnologia Advanced Color Spectrum. La tecnologia 3D è ovviamente precisissima e vi regalerà un'esperienza di intrattenimento come al cinema. Questo grazie alla performance del pannello ma anche al fantastico sistema audio con Dolby e DTS per coinvolgervi fino all'ultimo secondo durante la visione dei film. Davvero tante sono le funzionalità rese disponibili da Panasonic per questa serie di TV. Le tecnologie Wi-Fi e DLNA integrate vi permetteranno di navigare nel web e di accedere ad un numero sempre crescente di app internet. L'innovativa interfaccia MyStream attribuisce un significato completamente nuovo all'utilizzo di un televisore. Tramite la app Panasonic TV Remote 2 e il nuovo tasto MyButton posto sul telecomando touchpad del televisore potrete creare un vostro profilo esclusivo impostando i contenuti che preferite. L'interfaccia MyStream illustrerà inoltre contenuti registrati, vostre riprese video, foto di famiglia, pagine web e video in rete. La funzione di riconoscimento vocale Voice Assistant disponibile sul telecomando touchpad e sull'app Panasonic TV Remote 2 è in grado di identificare quale membro della famiglia stia utilizzando il televisore e richiamare automaticamente il suo profilo MyStream. A tutto questo si aggiunge l'innovativa Infobar che riconosce la vostra presenza mediante la videocamera integrata e vi consente di visualizzare automaticamente informazioni importanti come previsioni del tempo, messaggi, calendario e notifiche. Panasonic AS800 è un dispositivo davvero innovativo, un acquisto intelligente per chi ama l'intrattenimento e non vuole rinunciare a nulla.